E' stato rimesso a nuovo il bocciodromo comunale di Urbania. Effettuati i lavori di adeguamento della copertura e degli impianti elettrici esistenti, ma anche il rifacimento di tutta la pavimentazione in resina all'interno della struttura. Sabato all'inaugurazione è stata una giornata di festa per il circolo bocciofila Durantina, con l'intervento anche del sindaco di Urbania Marco Ciccolini. E' bello, bella la struttura esterna, bella interna, accogliente, fresca. Sicuramente sarà caldo d'estate e sarà caldo d'inverno. Siamo soddisfatti, è venuto un bel lavoro. Speriamo di ripartire come prima, perché dopo il Covid c'è un po' di calma, ma vedo che questi giorni si sta riprendendo e speriamo che con l'autunno si ricominci tutto con le nostre iniziative, le nostre feste che facciamo come prima. Sì, sì, infatti noi avevamo anche molti anziani che venivano qua a fare la partita a carte, a fare la partita a bocce la sera. E' un spazio libero, bello, aperto, c'è il suo parcheggio, c'è tutto. E' uno spazio che può aiutare, quindi chi vuol venire noi è ben accetto. Sì, sì, sì. Ed è stata un po' la questione scema un po', con il caldo. Ma adesso è un'occasione per stare dentro, si sta freschi, si fa la partita. Da solo fastidio la mascherina, quanto si gioca, ma siamo ben soddisfatti e speriamo di portare avanti come prima. Hanno fatto un lavoro di coibentazione eccezionale. Pensare che c'è una camera d'aria di 8 cm e un pannello di 10 cm nel soffitto, lateralmente uguale, quindi è un lavoro fatto con la testa, è fatto molto bene. Può aiutare, aiuta sì, perché quando in un locale si sta bene, d'estate non si giocava gli altri anni, era un caldo da morire, specialmente nel pomeriggio. Quindi quest'anno speriamo di riprendere bene. Quindi magari con l'attenzione, però... Certo, certo, certo. Oggi è sicuramente una bella giornata perché riconsegniamo alla città una struttura riqualificata sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista energetico, qualitativo, insomma, di illuminazione, di riscaldamento, fruibile in tutte le sue parti. Di questo siamo molto contenti perché, chiaramente, abbiamo una società che è molto attiva a Urbania con centinaia di iscritti e questa è proprio una comunità, insomma, vivace e grazie anche a questa comunità siamo riusciti a ottenere questo risultato. Certo, abbiamo cercato di fare il massimo e soprattutto cerchiamo di mettere insieme le varie energie per arrivare al risultato e perciò la collaborazione dei tecnici, l'associazione che comunque con il proprio volontariato, con le proprie energie, con la voglia, insomma, di arrivare ad un obiettivo, la forza, insomma, che ha avuto l'amministrazione di ricercare finanziamenti importanti per la ristrutturazione. Eccole, il mettere insieme varie energie ha portato a questo risultato. Allora, siamo oggi a inaugurare questo nuovo centro bocciofilo di Urbania grazie al Presidente Torcolacci che si è impegnato in questi mesi molto difficili per ridare alla comunità di Urbania una struttura all'avanguardia, una struttura efficiente dal punto di vista energetico, dove sicuramente coinvolgerà tante persone della comunità di Urbania e anche molti giovani si stanno approcciando a questo nuovo sport, a questo sport. Urbania si ripropria di una struttura, diciamo, un fiorellocchiello di tutta la provincia di Pesaro e anche questo serve per far ripartire lo sport e sicuramente nuove persone verranno a giocare in questa bella struttura, visto anche il periodo estivo, sicuramente anche molti giovani verranno a giocare a bocce. Allora, il lavoro che è stato fatto è stato quello di riqualificazione energetica del fabbricato. Cioè, partendo da una struttura che era vecchia, obsoleta ed era nata sotto considerazioni anche normative diverse, e vecchie, si è pensato praticamente di riqualificarlo, approfittando praticamente di bandi e di finanziamenti a livello regionale e nazionale, per ottenere una struttura nuova, diciamo, al passo con i tempi, ecco, è anche piacevole da frequentare, da dove passare il proprio tempo. Allora, è nata come una scommessa e naturalmente è stata una scommessa particolarmente felice perché ha dato delle soddisfazioni sia nella realizzazione sia nel risultato finale. Diciamo, tecnicamente è stato abbastanza complicato perché si è partito da una struttura che negli anni 60 poteva già essere considerata superata, perché non era altro che uno scatolone o un capannone. Quello che adesso invece la società, la società bocciofila d'Urbania ha a disposizione è un campo regolamentare con tutte, diciamo, le caratteristiche per essere un bellissimo, diciamo, contenitore per attività di qualunque genere, sia carattere regionale, nazionale, per poter poi usufruire anche, diciamo, anche per altri tipi di attività. E' abbastanza importante, certamente, anche in questo caso. La luce, come tante cose, adesso qui si è parlato di luce, diciamo, queste caratteristiche tecniche sono state studiate di mano in mano che andevamo avanti come progettazione e come realizzazione. Si è vista la differenza di impostazione rispetto a quello che era una volta l'esigenza che avevano i campi della bocciofila o anche altre attività sportive. Quando si entra nel dettaglio devi garantire, attualmente, con le normative di adesso, delle prestazioni che sono notevoli. E per garantire prestazioni notevoli, naturalmente, bisogna entrare molto nel dettaglio nella progettazione. Volevo solo spezzare una lancia, diciamo, per i professionisti locali e per le ditte locali. L'amministrazione e anche, diciamo, la bocciofila, la società che ha comunque collaborato molto nella realizzazione, ha spinto molto per utilizzare e far lavorare sia professionisti sia ditte locali. Questo si è riverberato, diciamo, in un comportamento da parte di ditte migliore, sia nel rispetto dei tempi, sia nel rispetto delle tecnologie, sia anche nel risparmio di costi per la realizzazione di quello che è stato fatto. E il risultato è stato sicuramente migliore di quello che sarebbe stato se, diciamo, avessimo scelto una strategia diversa, cioè quella di fare lavorare ditte di fuori, magari risparmiando qualche soldo in prospettiva. Però sicuramente avremmo avuto un risultato ben diverso. Io sollecito, come dicevo prima, le amministrazioni e soprattutto anche le società nell'utilizzare, quando è possibile, quando è fattibile, anche naturalmente in rispondenza alla normativa che richiede certe cose, le maestranze locali, i professionisti locali, perché comunque, in qualunque caso, si giocano in casa e hanno voglia di fare bella figura, e hanno voglia di farsi vedere e farsi conoscere.